Il Governo torni sui suoi passi e fermi il provvedimento sul superbonus, che potrebbe produrre effetti devastanti non soltanto per l'edilizia, ma per l'intera economia del Paese. E' l'appello del Presidente nazionale di Federcepi Costruzioni, Antonio Lombardi, dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri, del decreto legge che blocca lo sconto in fattura e l'accessione dei crediti per i nuovi cantieri legati ai bonus edilizi. Il blocco totale della cessione, commenta il Presidente, in un momento in cui peraltro regna assoluta incertezza sulla monetizzazione dei crediti, rischia di affossare l'intero comparto. Comeppure la decisione di impedire alle pubbliche amministrazioni di acquisire i crediti incagliati si sta deliberatamente o superficialmente spingendo migliaia di imprese verso il tracollo. Il decreto conferma il divieto per gli enti locali di acquistare i crediti, aggiunge il Presidente. Così si colpisce duramente un settore già duramente provato dalle continue modifiche legislative degli ultimi mesi. Si colpisce un comparto colpevole solo di aver rispettato le leggi dello Stato. Sono già circa 90.000 i cantieri bloccati, continua Lombardi, per mancanza di liquidità. 40.000 imprese devono cedere oltre 25 miliardi di crediti nei cassetti fiscali e sono a rischio fallimento. È una situazione drammatica, conclude. È giunta probabilmente l'ora di attivare iniziative dure e ferme affinché tutti capiscano la gravità della situazione.